Che il peruginismo sia diffuso in tutta Italia dipende senza dubbio dal fatto che il perugino viaggiava molto, quindi lui certo si è spostato, ma le sue opere sono andate davvero dappertutto, erano richieste dappertutto da committenti pubblici e privati, quindi è chiaro che dovunque arrivassero un'opera del famoso maestro perugino diventava un modello per l'ambiente artistico locale. Da Napoli alle Marche, dalla Lombardia a Venezia, Roma, la Toscana e l'Umbria. A cavallo tra la fine del IV e l'inizio del Cinquecento, lo stile dei perugino diventa un linguaggio nazionale con un raggio d'azione paragonabile solo a quello di Giotto prima di lui. Nel nord Italia, il dipinto che più di tutti fa scuola, Perugino lo realizza per la chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. È la Palas Carani, realizzata intorno a 1498, oggi alla Pinacoteca di Bologna. Al prossimo episodio